Buongiorno, sono Marco Manessi, ringrazio l'AES Energia per lo sviluppo, che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, ci hanno invitato alla presentazione dei nostri sistemi termici a cappotto. Infatti oggi ho sottenuto un piccolo discorso sulla riqualificazione, sul patrimonio esistente, da cui si potrebbe intervenire in modo molto specifico e adeguare tutto il sistema dei condomini, case private, dove ancora oggi, tutt'oggi, non ha un buon isolamento termico. Dunque, utilizzando il sistema termico a cappotto, applicando un sistema isolante, sicuramente riusciamo ad avere un mondo più verde e più carino per tutti. La ditta Reefix è una ditta austriaca che lavora nel sistema isolamento termico da oltre 25 anni. Oltre al sistema termico abbiamo tutti gli intonaci amalte e calce naturale, dunque potrebbe essere come complemento di finitura per le case per intonaci interni a basso consumo. In più possiamo utilizzare anche tutto un ripristino di calciastruzzi, in quanto possiamo pensare nell'idea di ripristinare vecchie tipologie o patologie di calciastruzzi ammalorati.